La Fortezza Medici riapre al pubblico, le porte si spalancheranno il 20 novembre in occasione del battesimo della città del Natale. Poi un'esposizione di grande respiro a primavera, mancano solo gli ultimi dettagli e poi il monumento sarà pronto ad accogliere di nuovo i visitatori. I lavori che da tempo hanno coinvolto la struttura che si affaccia sul Parco del Prato stanno giungendo finalmente al termine. Ad aprire l'inaugurazione sarà un'esibizione musicale, un evento che si inserisce nel contesto pop della manifestazione natalizia. Il direttore della Fondazione Guido D'Arezzo Lorenzo Cinatti auspica con questa riapertura un ritorno importante di turisti. La Fortezza in questi anni, io ero arrivato, era chiusa, ma perché c'era tutta una serie di lavori e consentitemi di ringraziare gli uffici del Comune, la manutenzione, i lavori pubblici, in generale lavori importanti, forse questo non era stato percepito all'esterno, che dovevano essere fatti, manutenzioni importanti. Con l'apertura della città del Natale abbiamo ritenuto che ci fosse da fare una corsa in più per aprire anche la Fortezza, che sarà, tra virgolette, nuda, cioè nel suo splendore. In questa fase non ci saranno mostre, quelle arriveranno nell'estate. Ma credo che questo sia un bel riappropriarsi di un luogo per gli aretini e per tutti i turisti che verranno alla città del Natale. Gli ingressi saranno contingentati, ma saranno garantiti ogni giorno, per almeno otto ore. L'idea è quella di favorire una maggiore apertura possibile, magari anche oltre le otto ore ipotizzate. Una cosa è certa, gli aretini residenti nel Comune entreranno gratis. In estate poi ci saranno spettacoli culturali e musicali. Nella mia idea deve essere l'hub delle iniziative culturali in estate della città. Magari anche in tardo autunno, per fortuna abbiamo un clima, poi ora si riscalda tutto. Quindi è certo che può essere anche per una manifestazione del polifonico, ma a me piacerebbe che lì ci fosse attività letterarie, che ci sia una parte della stagione musicale come quella che abbiamo fatto all'anfiteatro e si potesse trovare il modo di farla lì. Deve essere un luogo che d'estate, come altre fortezze medici e non solo in Italia, diventano il fulcro delle attività culturali e degli eventi della città dove sono nate.